con il numero cinquantasette Marco Sportiello con il numero ventidue Davide Zappacosta con il numero ventinove Ioan Penaloan con il numero venti Giuseppe Bianco con il numero novantatré Bucari Dramè con il numero diciotto Marcello Estigaribia con il numero ventuno Luca Cigarini con il numero diciassette Carlos Carmona con il numero sette Marco D'Alessandro con il numero novantanove Yadom Richmond Boaccini con il numero diciannove German Gustavo Dennis il nostro mister Stefano Colanton con il numero uno 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 il numero uno